24 migranti di nazionalità irachena sono stati rintracciati dagli agenti del commissariato di polizia di Otranto mentre percorrevano a piedi una strada statale nel corso della giornata di lunedì. I migranti, peraltro tutti in buone condizioni di salute, sono stati condotti presso un centro di prima accoglienza per le procedure di identificazione. Erano appena sbarcati da un natante sul quale il gruppo avrebbe viaggiato e sul quale gli investigatori stanno indagando visto che finora le ricerche non hanno dato esito. Tra di loro ci sono anche 7 minorenni. Mimmo Siena, Speciale News.